Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui su Metin2 Dato che sto variando un po' con i giochi L'ho visto lì, stavo registrando Ho detto Ma sì, ma perché non provare Cioè, non tornare così un video sull'italiano Scusate se si vede un po' così Non so, tipo tagliato, non so come si vedrà Ma non so perché OBS a schermo intero Non mi fa catturare il gioco Non lo so, gli altri giochi a schermo intero sì Questo no, quindi l'ho dovuto ridurre a finestra Non so perché, sinceramente Anzi, se lo sapete, scrivetemelo Così risolvo Non so perché così non me lo faccia fare Non me lo faccia fare intero Comunque, allora Io ora ho Che avevo? Non so, cavalcature, qualche cosa Allora, i bocconi Il panda corrazzato per ancora nove giorni Poi, poi Minerale ed ebbano Così Ah, è vero che io stavo facendo L'equip per andare L'equipaggiamento per andare ad Atlantide Mi ricordo Infatti avevo preso lo scudo con diavoli Il bracciale, il lampo, diavolo E poi che altro? Gli orecchini O il Il, come si chiamano? Gli ant... No, come si chiamavano? L'alchimia, ecco L'alchimia Ehm Ho preso quella con Lampo diavolo L'ha già la presi Ehm Granato, ecco Mitico Con lampo 6 Fulmine 6 Per aiutarmi un pochettino E dovevo fare soldi Qui ho solo nove milioni Ma non mi ricordo se nell'account del negozio Ah, pure ho preso la magia pure Ho detto la prendo Anche up Più 7 dovrebbe andare bene Con HP E lampo Con valore attacco pure il più 30 Che mi può essere utile Magari non so Il giorno la up Magari se ho i metalli E niente Qui ho la scimmia scaduta Ma io avevo Comprato un altro pet Se non erro No, l'ho spostato Forse sul dropper Quello lì Perché non ne potevo utilizzare due Mi pare Mi ricordo Era il drago Tipo Forse l'ho dato al dropper Sì Sì, sì, sì Ok Direi Oh, ancora le calze Perché l'ultima volta Che ci ho giocato È stato nel periodo natalizio C'è qualcosa Già hanno tolto tutto Di Pasqua Ruota Primavera Cos'è? Che non me la ricordo Ah, gira adesso 16 Nulla Quindi di Pasqua Penso che abbiano già fatto Cioè Pasqua è finita ormai Da una settimana Penso che avranno fatto Qualche Riavvio Se c'è ancora il coniglio Di solito lo piazzavano Qua dietro Se c'è ancora il coniglio No Se No, non Ah, no, c'è C'è Allora C'è ancora l'evento di Pasqua Ok Direi di andare Di provare a fare Qualche meeting In questo video Va A Bosco Rosso Allora Mi manca la collana Ce l'ho qua Gli orecchini Lacrime Ce li ho qua Devo aggiungerci Pure un lacrime Qua Allora Poi 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 I guantini Del ladro Li ho Ne ho uno Qui da tre ore Uno qua Da un'ora Qualcosa Poi vabbè Ce li ho in magazzino Pure Ma qui Le posso anche Troppare Andiamo Aspettate Aspettate Prima di andare Magari troppo Pure qualche scheggia Perché di solito Le vado a fare In catacumbe Le andavo a fare Allora Scheggia Le pozioni Me le prendo L'anello Lo lascio a terra Perché pure questi Ne ho Di quantità industriale Mi occupano solo Spazio L'uovo Lo piglio Questi qua Questi potrei raccoglierlo Per venderli Dalla bottegata Però vabbè Pure le pietre Le potrei prendere Per l'alchimia Allora Andiamo al prossimo CH Fritta P3 Chissà quanto vale La raccolgo Ma non si sa mai Vorrei che vale 500.000 Young Nel mercato Va Tutto fa media Allora Questi li raccolgo Per darli al pet Una Metin pasquale Livello 80 Allora Orecchini Così Mi aumento Ci deve essere Questi fastidiosi La potenza Di lama E levatevi Dalle balle Vanno in mente Vanno in mente Vanno in mente E piglialo E ci metti Mezz'ora Pozione rossa Bracciale Lama del demone Bracciale Le do al pet Ma l'elisir L'ho disattivato No è Che Che mi cura Sto elisir Ma io non mi ricordo Che sti mostri Levavano così Tanto Però Che diamine Allora Vorrei aprire L'uovo Magico Però se stanno Questi Cambio CH Va Allora Qui non ci sono Pasquale Altro che 90 Metteva a fare Pasquale Allora Apriamo Vediamo Perla bianca Devo controllare Quanto vale Sempre meglio Mi ricordo Uscivano pure I 30.000 Young Sempre meglio Di 30.000 Young Allora Bello sto fatto Che il pet Sembra che ora Rimanga Perché io mi ricordo Che lo dovevi Vucare in ogni CH Altrimenti in Pasqua Eccola qua Sempre Livello 70 Troppo perché Mi sembra che sia Il range di 10 Dovrebbe Non dovrebbero uscire I cosi fastidiosi Di Atlantide Anche se pure Questi sono fastidiosissimi Soprattutto ora che Io mi ricordavo Togliessero di meno Uh Ce ne sono Ben due Ma devo giocare Sempre di mattina E metto la sveglia Alle 6 No vabbè No Non mi svegliere mai Alle 6 Per me Di in due Sti cavoli L'ho droppato L'uovo magico No Maledetto Solo l'uovo normale Ma è Cioè Ricordavo giusto Il re Cioè Solo sfiga Magari Che fossi livello Più basso Ma si può aprire Subito No 28 minuti Mi ricordavo Così Allora Ah ma io ancora L'elisire pure Attivo Vabbè io È sempre 70 Questa si Vediamo Testiamo Facciamo i test Vediamo Se droppo ancora Ok se droppo Se non droppo ancora O droppo Magari Che non è Giustamente Uno nel 100% Del drop Quindi Semi magici Chissà quanto valgo Questi pure una volta Valicchiavano qualcosa Anni anni fa Allora Uovo pasqua E niente La seconda Dalla 70 Non ho droppato Allora E niente Manco uova magico Qua Ora non lo so Se è una questione A culo Che prima L'ho beccato Subito Nella 80 O nella 70 Il range Di 10 livelli Mi ricordavo io Una Una cavolata O semplice sfiga Può anche essere così Che è giusto il range Però Vediamo che esce Da sto corro Rubino Gritto Il rubino Era sempre quello Che valeva di più Anche se poi Hanno aggiunto questa L'ultima volta Che è In antico Non mi ricordo Quanto cavolo Vale Uh Posso provare A fare un rubino Antico Magari ci proviamo Magari mi porta fortuna A video Farlo Allora Facciamo questa 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 specie Di patto Se mi esce Urbino Antico Allora Sono obbligato A portare a meno Un altro video Su Made in Doom Faccio questa specie Di Come si Fioretto Chiamatelo come volete Voi Però prima Una pasquale Non ci credevo più Vabbè Meglio dire Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Io volevo l'ottanta Per Testare quel dieci Di lampo Restenza lampo in più Come Sarebbe andato No Non mi dire che Boh mi crasha No Ha detto Mezz'ora per trovarla Niente Uomo magico Allora Piccola scaramanzia Che io Facevo Anche l'ultima volta Vado in CH6 Io Sono napoletano Quindi Siamo scaramantici Vediamo Se mi porta Fortuna Il CH6 Come al solito O se Niente Allora Via la cavalcatura Via il pet Armatura Magica Vediamo No C'è quello Col cavallo bianco Di solito Lo facciamo sempre Quando ero isolato Allora Raffinamento Pietra del drago Vediamo un poco Tiriamo anche un po' in tondo Così Tutte le tecniche Usavamo all'epoca Il primo è andato Attenzione Diamo una botta Anche di aiuto Il secondo Il secondo È andato Occhio Occhio Adesso tocca Lama magica Occhio Occhio Sì È andato Rubino antico Grande Vedete Le varie Come posso dire Macumbe Oh Quindi devo portare Un altro video Come ho detto Se esce Rubino antico Porto un altro video E così Mi devo informare Sul prezzo Perché l'ultima volta Stava Io non mi ricordo Un centinaio di milioni Ci valeva Un centinaio di KKK Ci valeva Però non mi ricordo Effettivamente Quanto valesse Però dai Vediamo Un po' di fortuna Anche con l'uovo magico 50.000 young Volevi avere Stava Questo lo posso aprire Durante 30 minuti Quindi io Direi di chiudere il video così Trionfante Con un bel rubino Antico Ci sta Come Ritorno col botto Ritorno col botto Ah aspettate Uno Due Tre Quanti ne ho Vi posso consegnare A quel maledetto Così mi libero lo spazio E poi Finisce l'evento E mi rimangono Sul Sul groppone A me Penso no Si possano buttare Non lo so Allora Hai trovato Sette uova Ottimo Scambio Roletto uova Pasquali Con tre Sushi di carpa Vediamo che fanno Almeno mi danno Bonus buono 50 mp Vedete perché si droppano Così facilmente Cioè Manca una pozione Media Forse manca una pozione Blu Da 50 Appi Da 50 mp Voglio vedere Questa le vende A 100 mp Quindi più schifo Delle pozioni Di quelle pozioni Lì Quindi le butto Praticamente Mi servono un cavolo 50 mp 50 mp Da che cazzo Me ne devo fare Vabbè Quindi Chiudiamo il video Così Trionfanti Con il rubino Antico Iscrivetevi al canale Cerchiamo Io porterò un altro video Però Fatemi sapere Se può piacere Un ritorno su 22 Magari se un contenuto Che può piacere Iscrivetevi al canale Cerchiamo di arrivare A 600 iscritti Possiamo farcelo Lasciate un mi piace Attivate la campanella Per non perdere I prossimi video Bye bye